Affrontiamo il derby contro la Stella Azzurra in un momento sicuramente positivo per la nostra squadra veniamo da quattro vittorie consecutive e abbiamo oltre ovviamente all'importanza dei prossimi due punti anche un obiettivo di provare a fare cinque vittorie consecutive che in questo campionato non sono mai arrivate e sarebbero anche un record per questa società perché non siamo mai riusciti in questi anni di A2 a ottenere cinque vittorie consecutive quindi questo sicuramente è un altro fattore di grande motivazione. Affrontiamo la Stella Azzurra, una squadra notevolmente cambiata dalla partita d'andata perché ha inserito due giocatori di assoluto livello per la categoria come Rullo e Marcius che hanno cambiato un pochino la fisionomia della loro squadra, infatti Menalo adesso sta giocando minuti da quattro questo gli ha cambiato un pochino il progetto iniziale credo però ci aspetta una partita complicata sicuramente perché poi la Stella Azzurra si occupa l'ultimo punto in classifica però ha dimostrato anche nell'ultima partita giocata contro Ferrara che non bisogna fare l'errore di sottovalutare questo impegno io posso dire che i ragazzi stanno dimostrando grande concentrazione e applicazione in questa settimana di certo non abbiamo mai avuto in mente l'idea di sottovalutare questo impegno per tanti motivi sicuramente c'è anche quello del derby, è una partita che emotivamente vale tanto per noi romani della squadra fino a oggi la partita in Supercoppa e quella dell'andata l'abbiamo affrontata con la giusta motivazione e sono sicuro che questo sarà il punto di partenza fondamentale perché credo che contro la Stella Azzurra il primo punto focale quando inizia la partita è cercare di pareggiare la loro intensità sono una squadra che fanno comunque dell'intensità fisica e dell'agonismo uno dei loro punti di forza quindi questo sarà il game plan che ci portiamo dall'andata con ovviamente delle accortezze perché essendo un pochino cambiato il loro modo di giocare dovremmo stare attenti rispettando ovviamente le qualità offensive di Stevie Thompson Junior che sta dimostrando di essere un ottimo giocatore per questo campionato però siamo pronti, siamo molto motivati, abbiamo voglia di giocare questa partita per proseguire questo momento di entusiasmo e niente siamo pronti, ci stiamo preparando con grande concentrazione durante gli allenamenti e non vediamo l'ora che arrivi domenica per poter scendere finalmente in campo